Spero sia importante questa volta Fidati, è così Soldati, ghiacciate quel gormita Gormita! Io non riesco... No! Sì! Caricate! Guardiani, sottomettetevi al potere! Ere dei Darkan! Ora siete sotto il dominio di Lord Voidus! Il fuoco è forte! Visto? Icor non ha condannato proprio nessuno! Ben fatto, guardiano! Fermi! No! Ghiaccio oscuro! Esplosione ardente! Lo prendo io! Io! Esplosione ardente! Oh, forte! È stato incredibile! Anche meglio! Con tutto quel fuoco non ho nemmeno più freddo! Re Corey, a nome di Lord Carrion vi saluto! Spero che questa battaglia rafforzi l'alleanza tra i regni del fuoco e del ghiaccio! Sei in forma, Ulrich! E così! Scaldiamo l'atmosfera! Combustione! Prisma scura! Ultima chance per arrendervi, Gormiti! A questo punto dovreste realizzare che noi Darkan siamo destinati a regnare su Gorm! Non mi hai ancora sconfitto! Spero che Riff e Icor tornino presto! Io non mi illuderei troppo, testa vuota! Un mio regalo per loro! Ma che cos'era quel rumore? Ho paura che i vostri amici abbiano fatto una brutta fine! Assieme all'intera valle! Bravi i miei soldati! Non la passerai, liscia Darkan! Adesso preparati a... Riff e Icor! Cosa? Giusto in tempo, guardiano! Ho bisogno dell'energia del fuoco! Concentrati! Sì! Cryptus, sei pronto per il secondo round? Attenzione! La montagna sta cadendo a pezzi! Devo andare ad attivare quel sigillo! Io devo concentrare! Sulla mia schiena, presto! Ma tu devi arrivare al sigillo! State lontani dal mio sigillo! Ti fidi di un amico? Mi fido! Finché ci saremo noi, nessun Darkan regnerà su Corp! E' volto! Gormiti! 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 Raggiungi di lì! Chi mi fermerà? The legend is back! Legend is back! Gormiti! 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 Gormiti!